allora buongiorno i nostri amici oggi sono in collegamento con Gianluca Monaco presidente della scuola di studi giuridici e monetari Jacinto Auriti io conosco conosco Gianluca non è la prima volta che ci che ci colleghiamo o che ci vediamo la prima domanda Gianluca che voglio farti una domanda a mio avviso abbastanza importante perché il nome della scuola è scuola di studi giuridici e monetari cos'hanno in comune queste due queste due discipline così apparentemente diverse come mai come dire inserire tutte e due queste parole all'interno del nome della scuola innanzitutto perché la moneta è prevalentemente una questione giuridica prima che economica in quanto è uno strumento convenzionale legiferato e quindi nasce prima dalla legge dello Stato che eh decide il tipo di moneta da utilizzare e poi eh il tutto ehm la circolazione della moneta attiene invece la materia economica cosa che aveva ehm evidenziato il professor Jacinto Auriti al quale noi ci rifacciamo con con la scuola. Ah quindi quando Auriti diceva è una fattispecie giuridica intendeva questo? Beh intendeva questo sì che è una fattispecie giuridica eh che prima di essere una questione eh credibilizia ha un valore comunque giuridico convenzionale in quanto è lo strumento che eh viene legiferato per ehm gli scambi la moneta in quanto eh bene eh patrimonio bene economico di contenuto patrimoniale spettante ai cittadini in quanto sono loro stessi che creano il valore di quei beni che poi vengono scambiati con la moneta. Bene eh la cosa è la cosa un po' un po' particolare io lo dico chiaramente eh e eh a un certo punto qualcuno decide di fondare una di fondare una scuola nonostante ci sia la diffusione comunque delle dei libri di Auriti ma nonostante ci siano diversi diversi programmi eh video di programmi che Auriti mi pare si era pagato gestiti ecco come mai questa questa la fondazione di una scuola quali scopi quali scopi avete come scuola? Beh allora noi eh abbiamo deciso di rifondare eh la scuola seguendo le orme del professor Auriti eh quando lui fondò appunto la scuola eh di perfezionamento in studi giuridici e monetari ad Atri che era praticamente un un distaccamento dell'università di Teramo dove lui aveva eh la cattedra e presideva appunto la scuola di Atri. Eh siamo nati nel 2013 in virtù del fatto che in questi ultimi anni eh c'è stato un interesse notevole per quanto riguarda la tematica della sovranità monetaria una tematica che è stata sbandierata dall'avvento della crisi dell'ultima crisi quella eh generata dal fallimento della Lehman Brothers che non poteva ovviamente non avere ripercussioni anche eh in Europa. Eh in questi ultimi anni praticamente abbiamo assistito a eh teorie di economisti eh che eh si davano praticamente il cambio in trasmissioni televisive ognuno propinando eh la propria soluzione. Eh parlando di sovranità monetaria praticamente non potevamo non intervenire eh facendo un tipo di eh intervento che riguardasse soprattutto la eh formazione sul sull'argomento. Loro per sovranità monetaria questi economisti eh comunque intendono molti di loro intendono un ritorno a quello che era il sistema monetario italiano prima del del 1981 eh lo identificano con la eh scissione tra il governo e la banca d'Italia. Mentre Auriti già in tempi non sospetti eh decenni prima aveva già individuato che comunque lo Stato non era cioè i cittadini non erano eh sovrani della propria moneta anche se avevamo le lire. Eh praticamente con queste teorie eh economiche diverse diciamo tra di loro e quindi nessuna eh vera. Eh queste teorie economiche stavano comunque prendendo piede stavano anche carpendo quella che era la buona fede di molti che si considerano auritiani anche di quelli diciamo della prima ora, dei primi anni settanta perché il termine sovranità monetaria o moneta sovrana eh ha attirato la la loro attenzione facendo credere con un con con un linguaggio e un tipo di comunicazione eh ben fatta perché sono molto specialisti in questo eh vogliono intendere appunto che le loro soluzioni avrebbero risolto il problema monetario. Non era così e abbiamo deciso di eh quindi di mettere un puntino eh un punto fermo quindi eh e decidere di intervenire quindi abbiamo chiamato a raccolta nel 2013 tutti eh coloro che comunque avevano capito auriti e eh volevano proseguire con noi questo tipo di eh controinformazione eh creando dei nuclei territoriali eh dove ognuno sul proprio territorio o sulla propria località eh può fare dei convegni, può fare formazione in tal proposito ma prima deve essere formato anche soprattutto da un punto di vista dialettico e comunicativo eh dalla scuola. Noi non abbiamo alcuna intenzione di di mettere il brichetta di auritiano a chi non fa parte della scuola, ci mancherebbe altro. Intendiamo eh però dare gli strumenti eh di conoscenza eh alle persone che si sono avvicinate al tema e che in questi anni hanno conosciuto auriti, dare anche questi strumenti a coloro che si sono sempre ritenuti auritiani ma che forse non hanno capito fino in fondo il pensiero eh di auriti a 360 gradi ma anche nelle sue ehm anche nella filosofia eh di auriti, anche nella filosofia del pensiero giuridico e anche nelle sue eh proposte di legge. Molti non hanno neanche capito come eh sarebbe dovuta avvenire la fase di emissione e circolazione del progetto di moneta eh auritiano e di conseguenza questi sono gli strumenti che noi intendiamo adottare con cicli di formazione eh soprattutto anche di formazione comunicativa e di dialettica perché con le parole ci si può eh giocare benissimo e con le parole si possono anche eh portare le persone in in confusione. Quindi mi pare di capire che questa scuola è nata per fare un po' di chiarezza eh sul pensiero eh di auriti eh e poi fare anche della fortuna. Tutto questo mi pare di capire ma credo di averlo eletto anche da un numero di quarto potere mi pare il numero zero che in effetti dato l'interesse che c'è eh ormai verso questa verso queste materie, verso questa disciplina data anche la situazione che stiamo che stiamo vivendo eh si è creata un po' di confusione già per esempio tu accennavi alla alla differenza che c'è tra sovranità monetaria e moneta sovrana qualcuno sostiene mi pare eh mi pare sostenga che gli Stati Uniti hanno una sovranità monetaria mentre la cosa invece non è assolutamente così ehm però poi l'hanno girata in moneta sovrana insomma fanno un po' fanno un po' di confusione eh qualcuno sempre questo lo dico io perché mi sono mi sono guardato queste cose e grazie a Dio avevo un po' di 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 formazione solida su queste cose quindi non ci sono caduto mi parlo di parlo di qualcuno che ha fatto un sacco di convegni un sacco di di conferenze eh è stato ospite molte volte in televisione che insomma ha fatto un po' di sì sì sono nate sono nate sono nate delle associazioni dei movimenti di teoria economica che comunque rispecchiano eh qualcosa di già visto tant'è che si chiamano mh teorie monetarie moderne oppure neochenesiane quindi un qualcosa di già visto ma anche altre tipologie di teorie tipo quella austriaca ehm ha cercato di eh prendere il suo spazio mediatico ehm diciamo che al 98% la battuta che facciamo sempre eh se non si capisce eh che la moneta nasce prima per convenzione eh e poi è mh viene messa in circolazione diventa un titolo eh di credito o diventa praticamente uno strumento di eh debito o di credito ma non debito essa stessa quindi se non si capisce che c'è prima la legislazione quindi c'è prima l'aspetto giuridico e poi quello eh un creditizio quello monetario eh non se ne esce fuori diciamo che le teorie economiche la battuta come dicevo quello che facciamo sempre è che si avvicinano per il 98% a quello che diciamo noi perché non è per auriti non era importante poi la eh la circolazione eh della moneta una volta che eh fosse stata dichiarata di proprietà del portatore quella è una materia che la circolazione attiene all'ambito dell'economia di conseguenza applicare alcune teorie economiche dopo che eh la proprietà della moneta sia stata dichiarata del portatore all'emissione eh se si sbaglia teoria eh i danni non non si fanno perché comunque la moneta non è gravata da debito non ci sono garanzie eh e non ci sono interessi all'emissione è un aspetto che riguarda poi i rapporti sociali tra eh tra i possessori della moneta tutti possono prestare tranne chi mette. Mi pare già Luca che ehm come dire il principio chiave sia se la moneta viene emessa a debito oppure no eh e questo è il concetto giusto? Quindi la moneta non deve essere emessa a debito ma deve essere accreditata al popolo. Certamente questo è il principio fondante perché eh è come se il creatore della ricchezza dei valori eh si facesse prestare eh la moneta per i valori che lui produce e di conseguenza si fa espropriare automaticamente considerando considerando poi come avviene l'emissione e come avviene il calcolo eh degli interessi sul sui titoli. Eh nella storia secolare dell'emissione monetaria del prestito agli stati eh ormai abbiamo raggiunto dei livelli di eh di debito eh gestiti da possiamo chiamarle dinastie bancarie eh che ovviamente pretendono che ehm tutta questa massa monetaria sia privata sia loro e di conseguenza c'è l'accentramento stiamo vivendo l'accentramento di tutti i sistemi eh bancari delle nazionali. Le riforme che stiamo facendo anche in questo periodo vanno in tal senso. Ecco Gianluca ehm quali su che cos'altro eh c'è c'è secondo te eh secondo voi della scuola confusione in questo periodo? Io per esempio ehm ho ho assistito ad una ad una diretta da Mandala che stimo tantissimo e c'è la Saba che ritengo una persona assolutamente preparata che sta facendo un gran lavoro, ha avuto il coraggio addirittura di presentarsi ehm all'assemblea degli azionisti delle banche e comunque Saba in quel contesto diceva qualcosa e ehm e tu mi pare che attraverso una chat eh sostenevi una cosa un po' diversa. Ecco qual era l'argomento? E magari in che cosa c'era questa divergenza fra te e Saba? Beh eh io in quella puntata con Salvo manderà ho fatto presente in quella puntata c'erano sia Marco Saba che Marino Valentini che è il ex direttore Carichietti eh che ha avuto una crisi di coscienza e anni fa in tempi non sospetti si è dimesso. Bene anche con lui che comunque voglio dire eh a base di tecnica bancaria eh avevamo discusso di questa proposta che sta portando avanti Marco Saba. Porta avanti una proposta basata su una diciamo una teoria di Werner che praticamente riguarda il reflusso monetario praticamente quando la banca rientra in possesso della parte di capitale che ha prestato. Analizzando per logica quello che eh quella che è la proposta eh ci sembra praticamente innanzitutto assurdo che eh si debba contabilizzare la moneta che eh la quota capitale di moneta che rientra in banca in quanto va ad annullarsi contabilmente con con gli attivi della banca con i crediti della banca. Quindi di conseguenza i debiti del cliente rientrando vanno ad annullare i crediti della banca perché la banca ovviamente ha eh la funzione di fare eh lucro sugli interessi. Eh in secondo luogo mh pur se fosse se passasse questa questa proposta questa linea questa visione di contabilizzazione eh a quel punto le banche le banche verrebbe riconosciuta la proprietà della moneta all'emissione eh quindi eh tutta la battaglia che si sta facendo eh che stiamo proseguendo noi ma che è fatto a Uriti in questi ultimi quarant'anni eh praticamente verrebbe meno perché a quel punto mi dispiace dirlo anche per Marco che è uno studioso eh molto preparato e soprattutto anche solo Uriti ha fatto determinate ricerche a quel punto questo praticamente è una è inutile fare più battaglia perché gli viene riconosciuta praticamente la proprietà della moneta eh alle banche eh già sull'atto dell'emissione del prestito e secondo loro secondo Saba secondo Kerten rendrebbe tassata questa questa quota di capitale eh al trenta per cento praticamente le banche potrebbero non più eh aver bisogno di lucrare sugli interessi ma prestare semplicemente a tasso zero eh per un periodo di tempo brevissimo qualche giorno ad una eh azienda a loro amica una cifra di un milione di euro farsela restituire a tasso zero dopo tre giorni farsi restituire questo milione di euro e praticamente trovarsi come nuovo capitale eh questo milione di euro per il quale pagherebbe soltanto il trenta per cento allo Stato come tasse e 70 per cento invece quindi 700 milioni di euro 700 mila euro si ritroverebbero come nuovo capitale da dividere tra gli azionisti ed è praticamente quello che Saba ha proposto anche nelle varie assemblee degli azionisti delle banche in cui ha partecipato lui ha detto agli azionisti che guardate che i consigli di amministrazione vi stanno facendo del falso bilancio eh a voi spetterebbe un utile molto maggiore e quindi un dividendo molto maggiore ora non sono argomenti un po' un po' tecnici no probabilmente ci vorrebbero una lavagnetta uno schema ma vediamo capito tu stai dicendo eh sulla base della proposta eh la proposta di Saba riguarda il modo in cui vengono vengono iscritte cioè il modo in cui si fanno le scritture contabili nel modo nel modo attuale le banche occultano giusto? ma secondo quello che dice lui sì ok e la proposta significa sotto certi aspetti rendere rendere invece visibile ciò che viene ciò che viene ciò che viene attualmente occultato ma facendo in questo modo dici tu noi andiamo praticamente quasi a legalizzare e quindi a eh ufficialmente riconoscere la proprietà eh della moneta da parte della banca quindi sarebbe un autogol da 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 diversi punti di vista chiaramente sì chiaramente sì chiaramente sì anche perché eh nel momento in cui la banca eh mette un prestito mette a bilancio quindi diciamo mette in passivo il controvalore del prestito eh all'attivo mette il controvalore dei dei crediti e delle garanzie falso un bilancio io credo che vada ricercato come disse appunto in quella puntata Marino Valentini vada ricercato eh altrove in altri tipi di strumenti di contabilizzazione ehm in altre voci di contabilizzazione e tant'è che il Basilea 3 gli accordi interbancari di Basilea 3 eh hanno rimarcato proprio questo quindi diciamo le banche adesso devono mettere in bilancio negli attivi il reale valore degli attivi faccio un piccolo esempio quanto quando si chiede un mutuo per l'acquisto di una casa di 200.000 euro la banca eroga i 200.000 euro e nell'attivo tra eh le garanzie va a mettere il valore dell'ipoteca che è del doppio 400.000 euro quindi questo valore la garanzia di 400.000 euro viene poi rivenduto dalle banche per farsi anticipare i soldi eh a sconto dal eh sistema bancario quindi vengono cartolerizzate queste questi attivi ma questi sono aspetti tecnici diciamo che riguardano la moneta eh diciamo bancaria quello che a noi riguarda eh soprattutto il discorso della eh della sovranità monetaria per gli stati eh senza diciamo dobbiamo anche tenere presente che comunque il sistema bancario va visto come un tutturo e non come qualcosa di separato tra banche eh commerciali e banche di emissione perché le masse monetarie comunque sono eh scritturate tutte quante sia per quanto riguarda la moneta prestata agli stati che quella prestata a le aziende e alle cittadini. Eh eh poi magari torniamo su questo argomento perché mi interessa eh se c'è qualche altra eh confusione ma poi soprattutto come possiamo arginare arginare questa confusione anzi come potete arginare questa confusione. Io ti faccio una domanda un po' un po' particolare perché questa cosa mi è arrivata mi è arrivata leggendo qua e là eh una delle 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 accuse che vi viene fatta è ma questi sono aurigiani ultima ora io non vorrei che rispondi ma intanto rispondo anch'io non mi risulta che sia così perché tra gli appartenenti alla scuola c'è un signore che io stimo tantissimo sono anche amico di onore di questo chiama Sandro Mosca eh so che c'è Malaguti un vecchio lievo di eh di aurigiani mi pare ci sia un certo Pasciani ugualmente eh allievo di aurigiani dell'ultima ora questo cosa cosa poi fa insomma quindi mi pare un'accusa del tutto infondata sono quelle cose che vengono lanciate probabilmente non so per quale ragione ma direi a chi eh vuole veramente fare qualcosa di costruttivo se c'è qualcosa che non va se dica chiaramente cosa non va si parli di fatti eh si parli magari di teoria di teoria di aurigiani piuttosto che queste cosettine poi che lasciano il tempo che trovano questa questa è la mia risposta voglio dire ho toccato ma tu cosa puoi rispondere a questa beh sì a noi abbiamo notato che c'è una sorta di non di diciamo di invidia tra virgolette se così la possiamo chiamare eh forse da parte di quelle persone che all'inizio non erano state coinvolte eh ma soprattutto perché non non le conoscevamo non potevamo conoscere tutti gli aurigiani che per 40 anni hanno seguito il professore che prendeva la sua macchina e all'epoca non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi e quindi doveva muoversi personalmente con grandi spendi di spese eh per girare in tutta Italia per far valere e far conoscere la sua scoperta eh tra l'altro appunto abbiamo notato che da quando abbiamo prima ci conoscevamo tutti eh c'era un bellissimo rapporto tra quelli soprattutto tra le nuove generazioni eh quando abbiamo fondato una scuola molti non non sono voluti entrare come se avessero eh pensato che noi vissimo appunto l'etichetta di eh aurigiano cioè se non sei della scuola non puoi parlare di aurigiano assolutamente non è così ripeto quello che ho detto all'inizio la scuola intende eh fare formazione in tal senso in maniera ortodossa a capire quali sono le differenze sia linguistiche sia eh scientifiche giuridiche tra eh quello che viene eh propinata oggi con la sovranità monetaria eh e quella che invece deve essere la eh vera sovranità monetaria secondo i principi aurigiani per poter risolvere definitivamente il problema e farci diventare tutti i proprietari della moneta che abbiamo in tasca semplicemente questo eh abbiamo avuto inizialmente eh dei problemi di integrazione di di dialogo con alcuni di questi soprattutto con quelli che si ritenevano i gli amici conoscenti storici del professore però c'è anche da considerare una cosa che eh se noi siamo qui se le nuove generazioni eh continuano a eh ad avvicinarsi al tema e eh e ad Aruiti c'è anche da dire una cosa che mh praticamente dalla dalla scomparsa del professore Aruiti nulla è stato fatto per proseguire eh il progetto di diffusione della della consapevolezza e della conoscenza eh noi ci siamo soltanto fatti carico di eh proseguire quella forse indegnamente perché manca ovviamente la figura del professore ci siamo fatti carico di proseguire questo ambizioso progetto che è quello della diffusione della della scoperta scientifica di Aruiti sul tema monetario e soprattutto sul valore indotto. Comunque Gianluca queste queste difficoltà queste difficoltà le considero abbastanza normali tu pensi solo cosa dovette sopportare Aruiti? Sì poi ci sono anche diciamo le correnti eh quelle che che volevano che la scuola avesse una connotazione eh diciamo religiosa essendo il professore eh profondamente credente e religioso eh quelli che magari volessero una connotazione eh diostica sul tema monetario eh beh diciamo che nel programma degli studi eh si affrontano tutti i livelli di conoscenza della moneta eh di conseguenza si arriverà all'ultimo livello che appunto riguarderà eh anche la eh teologia della moneta perché è un argomento che non si può eh evitare in quanto la moneta nasce per una questione soprattutto spirituale che è quella della fede della fiducia. Non a caso non a caso nel 2011 lo confermò anche l'attuale presidente della BCE all'epoca governatore della Banca d'Italia Mario Draghi quando disse che oggi la moneta nasce cioè il valore della moneta oggi è dato dalla fiducia nell'accettazione delle condizioni. Sì sì mi pare di aver detto un articolo anche relativo a Mario Draghi proprio su Quarto Potere mi pare. Sì. Lui parla un attimo di Quarto Potere che cos'è? Allora Quarto Potere è un progetto di eh informazione periodica chiamiamola così di approfondimento eh che viene distribuito a tutti gli associati e gli iscritti al sito della scuola giacintoriti.ora eh praticamente è un periodico di approfondimento una rivista in pdf scaricabile gratuitamente per tutti coloro che sono iscritti al sito e viene inviata eh via mail eh a tutti gli aderenti. È mh un bel progetto impaginato molto bene abbiamo fatto i complimenti anche al responsabile per la comunicazione della scuola e puntualmente diciamo con una cadenza quasi mensile quando ci sono degli argomenti subito li pubblichiamo ehm cadenza quasi mensile inviamo questo questo volume in pdf eh dove praticamente si possono leggere degli articoli di attualità facendo riferimento a quello che diceva Auriti eh molto bello l'ultimo numero in cui c'è stato anche il contributo eh dell'avvocato eh eh dell'avvocato Storelli che praticamente non conoscevamo e abbiamo praticamente scoperto che eh è un nuovo eh c'è un nuovo auritiano in giro per l'Italia che è eh in grado di eh poter diffondere anche lui il messaggio di Auriti eh in maniera molto semplice quindi mi dispiace per i vecchi auritiani o coloro della prima ora che se la sono presi con con la scuola eh l'avvocato Storelli non fa parte della scuola però possiamo dire che è un auritiano e ha tutte le caratteristiche per le qualità per poter parlare di Auriti. Noi auspichiamo che possa collaborare anche lui con le lezioni della scuola. Lezioni che stiamo preparando, i testi sono in fase di eh rilettura eh per poi essere passati all'editore per la stampa. Le lezioni potranno avvenire sia in maniera ovviamente ehm testuale con i libri che eh distribuiremo agli scritti alla scuola e ovviamente con delle lezioni online eh via web come la classica accademia eh telematica. Ho capito quindi in realtà eh la la scuola quindi si prefigge eh di di divulgare il pensiero di pensiero di Auriti non solamente attraverso i suoi scritti ovviamente anche attraverso i suoi scritti e ovviamente anche attraverso eh delle conferenze, dei programmi che Auriti faceva ma addirittura eh preparando dei corsi specifici eh per 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 appunto fare in modo che possessi realmente di quello che era il pensiero di Auriti evitando di rimanere confusi in tante teorie o pseudo tali che sono in voga in questo momento e chi non è preparato rischia ovviamente di di cadere. Cioè ecco questi corsi quando partiranno? Allora eh dopo la mh dopo l'incontro annuale che abbiamo fatto a Roma ci eravamo prefissati entro eh dicembre. Salvo imprevisti eh gli imprevisti ci sono stati il presidente del comitato scientifico della scuola ha avuto degli imprevisti e quindi eh abbiamo dovuto ritardare un po' attendere che eh risolvesse eh troppi i problemi che risalute. Adesso possiamo ripartire quindi come dicevo prima sono in fase di eh revisione i testi eh dopodiché verranno inviati all'editore mese e mezzo massimo i testi sono pronti si potrebbe già eh già partire con le lezioni. Lezioni che come dicevo prima eh verranno seguite da eh online e lo studente, la riguarda che c'era uno studente comunque colui che si iscrive ai corsi può anche interagire con con il tutor, con il docente eh a cadenza settimanale abbiamo stabilito che ci siano delle cadenze settimanali per eh discutere sulla sulla tematica che si sta studiando in quel momento. Abbiamo previsto diverse sessioni ogni sessione durerà circa un paio di mesi eh per passare poi alle sessioni successiva e fare l'incontro annuale di fine corso eh poi tutti quanti dal vivo con una grande assemblea e dove poi ovviamente indicheremo quelli che saranno le persone che potranno eh spendere il nome della scuola in giro per l'Italia per vari conveni e conferenze. Quindi formazione, formazione, eh certamente. Ecco in cosa magari qualcuno ha della buona volontà in che cosa si può dare una mano eh alla scuola auritiana? Beh allora eh la mano la si può dare eh ovviamente con il supporto che sia di tipo eh di diffusione di quello che viene pubblicato sulla sulla pagina facebook della scuola sul sito stesso della scuola che ripeto è giacintoridi.è su facebook eh scuola giacintoridi. Se poi qualcuno vuol dare eh dei contributi chi non vuole associarsi eh ma vuole comunque dare un contributo economico con farlo tranquillamente eh con donazioni liberali ben vengano eh perché ovviamente fondi non ne abbiamo, non siamo un'accademia che prende fondi pubblici eh non siamo una fondazione anche se l'obiettivo sarebbe proprio quello di poter diventare fondazione in modo da avere anche eh diciamo il peso autorevole per poter eh entrare negli etanei e fare dei seminari di corsi eh di laurea su sulle tematiche auritiane. ci è stato proposto addirittura in questo periodo. Nei vostri scopi c'è anche questo c'è anche questa possibilità? Cioè di entrare negli atenei e poi fare? Sì 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 negli scopi negli scopi noi eh appunto dopo aver formato queste persone noi le persone le formiamo proprio perché non possiamo noi fisicamente spostarci eh da una parte all'altra d'Italia anche per ottimizzare ed economizzare eh i tempi eh abbiamo previsto che queste persone che usciranno formate dalla scuola eh possano anche eh fare dei corsi all'interno delle scuole secondarie eh delle delle università eh anche in accordo con docenti e titolari di cattedre universitarie. Ad esempio qui a Pescara abbiamo eh non noi della scuola però a Pescara c'è il professor Beraldi che eh già da tempo va eh di corsi, va seminari su sull'esperimento di Giacinto Oriti e sulla teoria del valore indotto di Giacinto Oriti quindi non credo che sia così difficile eh poter far entrare il pensiero oritiano eh in queste accademie che ci sono comunque eh confuse perché forse non ne hanno conto la conoscenza perché sono materie che non vengono studiate dagli economisti eh ma comunque sono il pensiero oritiano parte soprattutto dal concetto di di valore eh della moneta quindi la moneta prima di essere prima di avere avere valore creditizio ha eh valore giuridico. Pescara ad esempio c'è un testo del vecchio testo di diritto pubblico dell'economia del professor Di Griglio eh 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 nella parte introduttiva il professor Di Griglio si chiedeva proprio questo che non era ancora ben specificata la eh natura all'origine della moneta di che cosa fosse eh di chi fosse eh eh la moneta all'atto della della nascita dell'emissione. Con oriti ovviamente oggi possiamo rispondere anche a questi a questi docenti. Quindi magari integrare i loro testi con con gli studi oritiani. Bene quindi mi pare che mi pare che mi pare che lo scopo di questa scuola sia alquanto a quanto importante e anche alquanto nobile ma anche alquanto pratico eh perché man mano che ne va avanti mi pare che la manipolazione tende a ad aumentare un po' su tutto utilizzando come dici tu eh il linguaggio ma non solo ma non solo linguaggio quindi per orientarsi veramente in questo marasma di informazioni in queste tante teorie che vengono diffuse divulgate ad arte è la cosa più importante essere veramente preparati avere quella quella formazione quelle solide fondamenta che ti permettono poi di saper discernere quindi orientarti appunto in questa in questa confusione di informazioni. Eh io trovo veramente molto importante quello che state facendo. Sono rimasto molto molto contento da da quando c'è stato un impulso proprio che c'è stato un momento in cui le cose erano un po' ferme poi mi pare che invece ci sia stato ci sia stato un impulso eh vi ho seguito per questo e veramente vi auguro tutto tutto il bene che vi ridate. Vuoi aggiungere qualcosa Gianluca? Beh eh diciamo che eh il principio fondamentale è diciamo il filo rosso che che conduce la scuola eh in questo periodo è proprio questo come dicevi tu è quello di ehm cercare di romparvi storie dell'attenzione ai concetti fondanti e fondamentali alla gente per quando sentono parlare di eh gli economisti di sovranità monetaria con le loro soluzioni. Non c'è nessuna soluzione eh definitiva eh che un eh se non si supporta la eh il concetto eh di valore indotto della moneta di proprietà popolare della moneta all'atto di previsione. Eh le crisi sono cicliche proprio perché il sistema monetario è basato sul credito quindi del sul credito già sin dall'emissione. Non facciamo qui una lezione storica di come nasce ovviamente il il credito sulla sulla moneta ma risaliamo già ai tempi biblici eh assolutamente quindi le ultime tutte le crisi si sono ripetute con la stessa diciamo la stessa tecnica eh di conseguenza questo perché? Perché il sistema monetario così come è concepito è fallimentare. A periodi storici ovviamente il sistema collassa e quando collassa praticamente lascia sul terreno eh distruzione e devastazione. Io ricordo sempre che scopriremo la relazione che c'è tra eh tra tra usura tale tra usura e guerre tra usura e rivoluzioni è molto interessante può entrare entrare in questi argomenti perché si ha una visione veramente completa perché parlare di moneta vuol dire veramente allargare allargare la visione di farsi un'idea reale di questo mondo viviamo insomma. Beh consideriamo che con il debito e con l'usura comunque con il debito si dominano i popoli e ovviamente la moneta è lo strumento eh per dominarli. Se fosse riconosciuta di proprietà dei popoli e ogni popolo quindi proprietario della sua moneta eh non ci sarebbe usura sin dall'origine e i popoli verrebbero liberati dall'angoscia del vivere sociale, dall'insolvenza di pagare i debiti, dalla tassazione veloce che comunque eh riguarda la restituzione eh dei debiti e non eh il pagamento dei servizi che fornisce uno Stato. Eh di conseguenza se riuscissimo a creare una massa critica di persone consapevoli magari si potrebbe anche creare, ce lo auguriamo, una massa consapevole comunque di persone che si vogliono dedicare alla politica per poter cambiare le leggi perché consideriamo questo le soluzioni proposte dagli economisti non eh si possono attuare soltanto se modifichi eh la legge. Quindi se bisogna modificare la legge a questo punto modifichiamola non come si sta facendo tuttora in favore del sistema palcaio ma in favore del del popolo dei cittadini. ehm di conseguenza c'è anche un errore quello di parlare di moneta sovrana, moneta sovrana e eh in questo caso l'attribuzione del diritto di sovranità è attribuita ehm alla a uno strumento è possibile che uno strumento possa essere sovrano sull'uomo e l'uomo che è sovrano della moneta e questo è anche un concetto il concetto diciamo distorto di di comunicazione che viene fatto appositamente da grandi comunicatori che hanno abbracciato determinate teorie economiche tra l'altro americane e noi sappiamo che non siamo l'America, non non abbiamo quel tipo di cultura, siamo soltanto una una colonia quindi non possiamo accettare quel tipo di di teorie. Auriti si soffermava molto su questi aspetti no? Anche quando parlava di filosofia, Kant, Hegel, la posizione tra oggetto e soggetto, strumento, strumento e essere umano cioè voglio dire di queste cose ci sarebbe... le parleremo magari... certamente la distinzione tra oggetto e soggetto ehm quindi ecco la deformazione dei giudizi di valore determinati da una concezione filosofica monistica hegeliana che ha per baso come diceva lui lo sappiamo conferma anche in quello che si che si sta attuando che era per baso anche le accademie eh sia di filosofia e sia di diritto eh di giurisprudenza quindi di conseguenza il ribaltamento eh concettuale e questo è avvenuto proprio cioè se ci ritroviamo così è appunto perché c'è questa distorsione dei giudizi di valore. Noi abbiamo pubblicato su oltre a quarto potere abbiamo pubblicato anche eh dei volumetti che sono degli estratti dei libri di Auriti per chi non ha la possibilità di acquistare i libri eh sono degli volumetti in PDF scaricabili sempre dal sito eh c'è cintualiti.eu e si chiamano, sono intitolati la crisi del sistema. Eh finora sono stati pubblicati tre volumi, il consiglio è subito di leggere il primo perché parla proprio della distorsione dei giudizi di valore e di come si è arrivati a questa a questa forma di società con queste legislazioni, con questo stato costituzionale. Che ci sta impoverendo tutto non solo e non solo perché non è solo una questione di povertà economica, è una povertà spirituale, è una povertà spirituale e insisto anche sulla povertà spirituale. Gianluca, come si fa a iscriversi ai corsi quando partiranno? Allora eh per iscriversi ai corsi ci sarà un apposito spazio all'interno del sito. A parte che daremo la eh comunicazione sui vari social network e comunque anche via mail a tutti coloro che saranno iscritti al sito. Eh ci sarà da compilare un apposito modulo eh dopodiché è fondamentale avere una eh abbiamo deciso di utilizzare il sistema e il gout di Google per quanto riguarda eh i corsi online. Eh quindi sarà necessario avere e dotarsi di un account Google e Google Plus per poter poi partecipare alle alle dirette delle delle lezioni online. Eh gli iscritti ovviamente dopo aver compilato i moduli come c'è la parte che riguarda la normativa eh sulla privacy dopo aver compilato i moduli eh eh riceveranno un account eh e riceveranno ovviamente eh i libri di testo che eh avremmo stampato per per fare i corsi. Con l'account invece potranno accedere eh alla alla parte video delle delle lezioni che sono sul canale YouTube Scuola Giacinto Auripi. Già adesso ci sono dei video ma non sono delle lezioni. Le lezioni saranno riservate, i video delle le lezioni saranno riservate soltanto a coloro che sono eh iscritti ai corsi. E ci sarà appunto una sezione dedicata eh proprio per questo sul sito. Eh dopodiché le revisioni comunque e il supporto sarà fatto tutto online eh e anche a livello mailing eh quindi il supporto da nostro editor sarà pieno per quelle quattro ore a settimana che abbiamo deciso di eh mettere a disposizione per coloro che volessero fare degli approfondimenti sulla materia che stanno studiando in quel momento. È semplicissimo abbiamo utilizzato praticamente le tecniche delle varie eh università telematiche. Quindi scusa eh questi corsi sono per chi già mastica un po' la materia oppure anche per per neofiti? No 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 i corsi i corsi sono per per tutti. I corsi sono per tutti. Ci sono più livelli quindi a seconda del tipo di eh di conoscenza e di comprensione uno può iscriversi eh eh ad un determinato livello. Diciamo che sono corsi che hanno una certa propria eletticità. Quindi anche il linguaggio stesso dei corsi è fatto in maniera semplice proprio per dare la possibilità eh a tutti di poter comprendere perché se c'è una cosa che ehm mette in difficoltà le persone nel capire cosa avviene a livello economico e eh legislativo è proprio la difficoltà eh dei termini che vengono utilizzati. Su tutto questo mi pare che lo stesso Federico Caffè eh si ricordo bene disse che sul gioco di parole sulle incomprensioni eh ci si sono fondati praticamente eh le più grandi giuste monetarie e finanziarie. E non solo sul sulle parole eh che sta lavorando a tutti i livelli e il libro di oro ve lo mi pare sia il quale più attuale possibile. Allora Gianluca grazie per questa per questa chiacchierata così interessante. Grazie a te Elia. È stato molto importante capire quali sono gli scopi di questa scuola ma soprattutto perché eh questa scuola è nata e a me piace ridirlo c'è parecchia confusione in giro eh non è casuale in alcuni casi diciamo che casuali in altri casi probabilmente non lo è quindi importante è che qualcuno porti avanti con serietà e con competenza il pensiero di Auriti e eh organizzando appunto questi questi corsi pubblicando pubblicando termine prossima comunque eh poi realizzando il pdf una una un bollettino che viene inviato a chiunque le faccia richiesta o agli iscritti mi pare che ci sia che ci sia parecchio parecchie parecchie cose importanti eh io invito qualcuno magari eh se è una mano in qualche modo magari contattando direttamente tu sei tu sei disponibile la scuola è molto disponibile e mi auguro magari in un prossimo futuro di poter già parlare di questi corsi eh dell'esito dei corsi di come sono scuola sta portando avanti io ti dico sì in questo periodo tra l'altro stiamo programmando eh abbiamo richieste di convegni da più parti Italia quindi stiamo programmando stiamo validarizzando eh gli appuntamenti se qualcuno avesse intenzione di organizzare degli incontri sulla propria città eh va sul sito giacinto.ruiti.eu eh scrive direttamente nella sezione contatti alla segreteria mando una mail dicendo che cosa vuole organizzare e dove e noi siamo ben disponibili ad essere presenti e dare una mano per la diffusione. L'importante è far capire questo cioè noi siamo nati per eh dire basta alla confusione eh dilagante. Siamo stanchi di essere presi in giro sia dal sistema eh bancario che eh detta le leggi al sistema eh politico e soprattutto siamo stanchi di essere presi in giro anche da eh dai nuovi pifferai eh economisti che hanno la ognuno ha la propria soluzione ognuno ha ragione o per compartimenti stagli e di conseguenza eh nessuno ha la soluzione in mano. Non si può avere la soluzione se non si parte dal principio giuridico di valore della moneta. Il punto chiave il punto chiave è questo. Ti ringrazio ancora e alla prossima e alla prossima occasione e bocca al lupo per tutto ovviamente. Grazie e visto che ci siamo buon inizio di anno a tutti quanti. Ciao Elia. Ciao grazie grazie.